Hai visto il libro di Federico García Lorca? La rosa, di rosa, non è carta passata su. La rosa non cercava la rosa. Immobile nel cielo cercava altra cosa. La rosa non cercava né scienza e né ombra. Con fine di carne e di sogno cercava altra cosa. A mio magia di rosa.